Campo Basso prosegue il suo percorso green. Il comune del capoluogo da anni sta portando avanti una strategia ecosostenibile nell'intento di ridurre le diverse forme di inquinamento ambientale. Un'attenzione particolare dedicata alla qualità dell'aria. In quest'ottica Palazzo San Giorgio si è partiti rendendo gratuiti per le auto ibride i parcheggi blu. Ulteriore step il progetto di 20 colonnine per la ricarica delle auto elettriche e con l'ulteriore iniziativa indirizzata alla polizia locale presentata dal sindaco Antonio Battista e dagli assessori De Bernardo e Ramundo. Siamo partiti con la sperimentazione per due anni sulla gratuità dei parcheggi blu per auto elettriche e ibride e oggi siamo arrivati alla maturità di poter estendere questa gratuità per i prossimi due anni e mezzo quindi dare la consapevolezza al cittadino di poter avere un servizio se fa una scelta ecologica importante per i prossimi due anni e mezzo è una cosa importante. A ciò abbiamo iniziato ad raggiungere altri altri servizi diciamo connessi. Uno su tutti è la possibilità di dotare la città di Campobasso gratuitamente con un accordo con NLX di 40 colonnine elettriche su tutto il territorio in modo da poter fornire al cittadino, l'ospite, il turista la possibilità di caricare il proprio mezzo virtuoso nei punti di interesse maggiori della città. A questo grazie a una collaborazione stretta con l'assessorato alla mobilità di De ringrazio Francesco Re Bernardo abbiamo iniziato anche a estendere questa azione virtuosa anche a noi stessi quindi partendo dal corpo dei vigili urbani oggi abbiamo dotato la città di Campobasso della prima auto ibrida in attesa pian piano di cambiare tutto il patrimonio, il parco auto dei vigili urbani volto in quel senso proprio per dare una sicurezza ambientale maggiore, un rispetto maggiore e quindi crederci fortemente su questi concetti, questi principi. Grazie a tutti.